Oggi sono a Genoni, un incantevole paesino che nasconde storie affascinanti. Il mio viaggio inizia con una visita al Museo Park, dove il passato prende vita. Il sindaco di Genoni mi accoglie con entusiasmo e mi guida in questa avventura nel passato. Partecipo poi a un laboratorio speciale dove pulisco fossili veri. È come toccare con mano la storia. Grazie a visori per la realtà aumentata, è come viaggiare nel tempo, esplorando dinosauri e fossili antichi. Ma a Genoni c'è di più. Mi immergo nella cultura del luogo attraverso un laboratorio di poesia che celebra la bellezza della natura e della vita. La giornata è stata un mix perfetto di scoperte, emozioni e connessioni. Portare via con me la magia di questo posto è un regalo indimenticabile. Genoni mi ha mostrato quanto sia profondo e ricco il legame tra la terra, la sua storia e le sue genti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.